L'ondata di Cando sull'Italia, domani saranno 16, le città da Pollino Rosso soffrono i ghiacciai a 18 gradi sulla marmolada. Manovra il ministro Giorgetti, non si può fare tutto, prioritari interventi a favore di redditi medio-bassi e crescita. Caso Vannacci, Salvini sente il generale, comprerò il suo libro, il BD chiede che la Meloni rompa il silenzio sulla vicenda. Stupro di gruppo a Palermo monta l'audio social contro gli indagati, femminicidi, la ministra roccella al TG1, più prevenzione. Il sogno di una vita normale in guerra, a Odessa riaprono le spiagge e delle reti per proteggere i bagnanti dalle mine. Miguel Mosè rapinato nella sua casa di città del Messico, lui e i figli minacciati con la pistola, è stato terribile. Djokovic batte al Caracas insinnati, quattro ore sotto il sole, match pazzesco e la maglia strappata per festeggiare. Arriva Blue Beetle, lo scarafaggio blu, il nuovo eroe di C-Comics e negli USA Spodesta parli dal tono dei film più visti, bambole, supereroi, mostri e videogame. Le sale ormai si riempiono così. Buonasera dal TG1, si intensifica l'ondata di caldo africano sull'Italia, domani saliranno a 16 le città con il bollino rosso del ministero.